ragazzi mi raccomando se vi fa piacere iscrizione gratis al canale e campanellina voglio arrivare a 10.000 entro Natale vediamo se ce la faccio e allora Icardi si era proposto all'Inter siamo tutti d'accordo ci stava sui coglioni Icardi no oppure alla sta grande maggioranza dei tifosi dell'Inter ma te devi analizzare la situazione economica fino a quando non cambia la proprietà che sappiamo tutti essere disastrata è una situazione disastrata porti quadrado gli interisti il giocatore più odiato dagli interisti a quel punto secondo me come sta dicendo qualcuno lì all'Inter potevi anche perdonare Icardi no che con 10 milioni potevi prenderlo però si è preferito investire su Arnautovic c'è un'operazione da circa 16 17 milioni complessivi in Icardi solamente aveva eh un ingaggio importante è tutto opinabile però ora ritorna in auge il nome che è stato fatto quest'estate e io ti ridico la stessa cosa perché ragazzi mi state scrivendo in tanti soprattutto su Instagram dove vi invito ad iscrivervi a seguirmi anche su Instagram no iscrivervi qua al canale e eh ti dico che Taremi è il Diego Costa è il Diego Costa dell'euro spin ti ridico la stessa cosa perché a me Taremi non piace è un giocatore che ha fatto una stagione buona in Portogallo una laddove Jackson Martinez Hulk e Quaresma erano dei fenomeni finiti tutti nelle barbe questi giocatori in Portogallo sembravano dei fuori classe e le caratteristiche di Taremi sono davanti agli occhi di tutti cioè è un giocatore un attaccante sporco ruvido che secondo me in Italia prenderebbe anche tantissime ammunizioni poi avendo poca tecnica secondo me non si troverebbe benissimo con il gioco di Inzaghi un po' quello è successo anche a Miglio Verde e Lukaku quindi eh a noi serve uno capito uno che che sappia trovare la porta uno che sappia legare il gioco che sappia legare il gioco nel centro campo capito quindi questo Taremi ragazzi a me non mi dice nulla lo puoi pagare anche sette otto nove milioni ma l'attaccante che serve all'Inter l'attaccante che serve all'Inter a deve essere bravo nelle conclusioni in porta e lui non lo è più di tanto non è un cecchino ha fatto una stagione buona in Portogallo due deve essere un attaccante che 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 sa fare raccordo tra i reparti e lui non lo sa fare tre un attaccante tecnico e lui non è tecnico più di tanto è potabile non nulla di più a livello tecnico spalla la porta è bravo difende comunque difende bene la palla ha una tecnica di base accettabile ma non è un giocatore tecnico quindi ragazzi di cosa stiamo ragionando siamo sempre lì costa poco a 31 anni dove vuoi andare un incinese lascialo perdere faremi prendi un giovane più volentieri io vi sto dicendo come la penso io non ti sto dicendo che ho chi ho la verità in tasca io ti sto dicendo come la penso io continua a dirti a me questo giocatore non mi piace per nulla proprio non mi piace occhio al Bologna di Tiago Motta poi ne parleremo anche domani perché comunque Tiago Motta tra l'altro incomincia l'allenatore della primavera del Paris Saint Germain se non sbaglio con tutte queste idee innovative di calcio che aveva lui ora è molto meno innovativo aspetta se no ecco sono centrato giocava solo un attaccante tanta tantissima densità centro rampo e con tanti scambi di posizione diciamo che con il tempo si sta un attimino non ti dico standardizzando però si sta un po' adeguando sta cercando di essere un po' più pragmatico e meno innovativo rispetto a tre quattro anni fa ma è un buon allenatore Tiago un allenatore con delle ottime idee con più idee di calcio con più schemi in testa e con tanta personalità un allenatore che a me piace Tiago Motta quindi con il tempo è diventato meno innovativo più pragmatico ma è un allenatore forte e occhio perché il Bologna al Bologna è difficilissimo fargli gol è una squadra che tra l'altro non rinuncia nemmeno ad attaccare ma ha una solidità difensiva importante quindi non è sarà una passeggiata di salute anche lì ti serviranno servirà impegno servirà sudore servirà sacrificio per vincere contro il Bologna ragazzi non sarà una passeggiata di salute iscrizione al canale gratis e campanellina ciao inter a 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